lessing copyright introduzione il diciassette dicembre 1903 su una ventosa spiaggia del nord caroline per una durata appena inferiore ai cento secondi che un veicolo più pesante dell'aria dotato di propulsione propria era in grado di volare fu un momento entusiasmante e la sua importanza venne ampiamente compresa quasi immediatamente ci fu un'esplosione di interesse per questa nuova tecnologia del volo umano e un'ondata di innovatori iniziò a costruire il su di essa all'epoca in cui i fratelli Wright inventarono l'aeroplano la legislazione americana sosteneva che il proprietario di un terreno ne possedeva di conseguenza non soltanto la superficie ma tutta la terra di sotto fino al centro della terra e tutto lo spazio al di sopra fino a un'estensione indefinita verso l'alto per molti anni gli studiosi si erano chiesti come interpretare correttamente l'idea che i diritti sulla terra potessero estendersi fino al cielo ciò significava forse che si possedevano anche le stelle si potevano denunciare le oche per le continue e volontarie violazioni poi arrivarono gli aeroplani e per la prima volta questo principio della legislazione americana profondamente innestato nella tradizione e riconosciuta da gran parte dei maggiori studiosi di diritto del passato divenne importante se il mio terreno arriva fino al cielo che cosa succede quando la united si vola sopra? ho il diritto di vietarne il passaggio sulla mia proprietà? mi ha consentito firmare una licenza esclusiva con la delta airline? possiamo organizzare un'asta pubblica per decidere il valore di tali diritti? nel 1945 queste domande divennero un caso federale quando Thomas Lee e Tiny Cousby contadini del nord carolina iniziarono a perdere i polli a causa dei voli a bassa quota degli aerei militari sembra che i polli volassero terrorizzati contro le pareti del granaio e morissero e Cousby sporsero denuncia sostenendo che il governo violava legalmente la loro proprietà terriera gli aeroplani naturalmente non toccavano mai la superficie del terreno dei Cousby ma se come avevano sostenito Blackstone, Kent e Coke la proprietà raggiungeva un'estensione indefinita verso l'alto allora il governo stava violando tale proprietà e i coniugi Cousby volevano impedirlo la Corte Suprema accettò di esaminare il caso il congresso aveva dichiarato pubbliche le strade dell'aria ma se la proprietà di qualcuno si estendeva veramente fino al cielo allora la dichiarazione del congresso avrebbe ben potuto configurarsi come una appropriazione incostituzionale della proprietà senza compenso la Corte riconobbe che esiste un'antica dottrina secondo cui nel diritto consuetudinario o sistema giuridico a common law la proprietà di un terreno si estende fino alla periferia dell'universo ma il giudice Douglas non aveva molta soggezione verso le antiche dottrine in un unico paragrafo vennero cancellati centinaia di anni di leggi sulla proprietà così scrisse Douglas a nome della Corte tale dottrina non ha spazio nel mondo moderno l'aria è un'autostrada pubblica come ha dichiarato il congresso se ciò non fosse vero ogni volo transcontinentale sarebbe soggetto a infinite denunce per violazione di proprietà il senso comune si ribellerebbe all'idea il riconoscimento di simili istanze private nei confronti dello spazio aereo intaserebbe queste autostrade interferendo seriamente con il loro controllo e sviluppo dell'interesse pubblico e trasferirebbe alla proprietà privata ciò su cui soltanto il pubblico può vantare diritti il senso comune si ribellerebbe all'idea è così che normalmente funziona la legge spesso in modo meno brutale e intollerante ma in definitiva è così che funziona lo stile di douglas non dava adito a esitazioni altri giudici avrebbero blaterato per pagine intere prima di raggiungere la conclusione che douglas richiude in una sola riga il senso comune si ribellerebbe all'idea ma ti occupi intere pagine o si risolva in poche parole lo spirito peculiare del sistema di diritto consuetudinario come il nostro è che la legge si adegua alle tecnologie dell'epoca e mentre vi si adegua cambia concetti che erano solidi come rozza in un'epoca si riducono in polvere in un'altra o almeno è così che succede quando non esiste alcun soggetto potente sull'altra sponda del cambiamento i Cowsby erano semplici contadini e anche se sicuramente parecchi altri si trovavano nella loro situazione disturbati dal crescente traffico nel cielo sempre sperando che non fossero molti i polli che andavano a fracassarsi contro i muri sarebbe stato assai difficile per i vari Cowsby del mondo unirsi per bloccare l'idea e la tecnologia a cui i fratelli Wright avevano dato i natali i fratelli Wright avevano sputato gli aeroplani nel bacino dei nemi tecnologici l'idea si diffuse come un virus in una stia per polli contadini come Cowsby si trovarono circondati da quel che appare ragionevole sulla base della tecnologia che i Wright avevano realizzato potevano starsi nelle loro fattorie con i polli morti in mano agitando i pugni contro quelle stravaganti tecnologie quanto volevano potevano rivolgersi a qualche parlamentare o perfino sporgere denuncia ma alla fine avrebbe prevalso la forza di quel che sembrava ovvio a chiunque altro la forza del senso comune non si sarebbe consentito al loro interesse privato di prevalere su un ovvio beneficio pubblico Edwin Howard Armstrong è uno dei geni inventori dimenticati d'America apparve sulla scena dei grandi inventori americani appena dopo i giganti Thomas Edison e Alexander Graham Bell ma il suo lavoro nel campo della tecnologia relativa alla radio fu forse più importante di quello di qualsiasi altro inventore nei primi 50 anni di vita di questo strumento aveva un'istruzione migliore di quella di Michael Faraday che, apprendista rilegatore di libri, aveva scoperto l'induzione elettrica nel 1831 ma vantava la medesima istruzione sulle modalità operative del mondo della radio e in almeno tre occasioni Armstrong inventò tecnologie profondamente importanti per il progresso della nostra comprensione di questo dispositivo Nel giorno seguente, il Natale del 1933, gli vennero rilasciati quattro brevetti per l'invenzione più significativa la radio a modulazione di frequenza, FM fino ad allora gli ascoltatori disponevano di quella AM a modulazione d'ampiezza i tecnici dell'ora sostenevano che la radio a modulazione di frequenza, FM non avrebbe mai potuto funzionare il che era vero nel caso di banda di spettro ridotta ma Armstrong scoprì che la radio a modulazione di frequenza in un'ampia banda di spettro poteva fornire un'incredibile fedeltà dei suoni con un trasmettitore assai meno potente e con minori disturbi causati dalle scariche elettrostatiche Il 5 novembre 1935 dede una dimostrazione della tecnologia nel corso di una riunione dell'Institute of Radio Engineers dell'Empire State Building di New York fece scorrere la manopola della sintonia lungo una sfilza di stazioni AM fino a sintonizzarsi sulla frequenza di una trasmissione che aveva predisposto da una distanza di 17 miglia la radio rimase muta come fosse morta poi con una chiarezza che nessuno in quella stanza aveva mai sentito in un apparecchio elettrico si udì la voce di un annunciatore questa è l'emittente amatoriale V2AG di Yonkers, New York che trasmette sulla modulazione di frequenza di due metri e mezzo il pubblico stava ascoltando qualcosa che nessuno aveva ritenuto possibile un bicchiere d'acqua veniva riempito davanti al microfono in quel di Yonkers il suono era quello di un bicchiere d'acqua che veniva riempito un foglio di carta fu arrotolato e accartocciato sembrava proprio un foglio di carta e non il fuoco che divampava in una foresta si trasmissero dischi con marce e una solo di pianoforte e una di chitarra la musica veniva trasmessa con una fedeltà raramente o forse mai udita prima da un comune apparecchio radio come ci direbbe il senso comune Armstrong aveva scoperto una tecnologia per la radio infinitamente superiore ma all'epoca della sua invenzione egli lavorava per la RCA il soggetto dominante nell'allora prevalente mercato della radio AM nel 1935 esistevano un migliaio di emittenti in tutti gli Stati Uniti ma le stazioni delle grandi città erano tutte di proprietà di un pugno di reti il presidente della RCA David Zarnoff amico di Armstrong era eccitato all'idea che quest'ultimo avesse scoperto un modo per eliminare le scariche alle trasmissioni radio AM perciò si mostrò molto impaziente quando Armstrong gli annunciò di avere un apparecchio in grado di eliminare l'inconveniente ma quando Armstrong diede la dimostrazione dell'invenzione Zarnoff non ne rimase affatto contento credevo che Armstrong avesse inventato un qualche tipo di filtro per eliminare le scariche dalla nostra radio AM non pensavo che avrebbe lanciato una rivoluzione introdurre una dannata industria del tutto nuova capace di competere con la RCA l'invenzione di Armstrong minacciava l'impero AM della RCA per cui l'azienda lanciò una campagna per sopprimere la radio FM pur essendo questa una tecnologia migliore Starnoff era uno stratega superiore come ha raccontato uno scrittore le forze a favore della radio FM generalmente di livello ingegneristico non riuscirono a superare il peso della strategia scogitata dagli uffici vendita brevetti e legale per soggiogare questa minaccia contro la posizione della grande impresa perché la radio FM nel caso ne fosse stato permesso lo sviluppo senza limitazioni imponeva la completa riorganizzazione del sistema radiofonico e la sconfitta finale del sistema AM attentamente regolamentato grazie al quale la RCA aveva raggiunto il potere inizialmente la RCA mantenne la tecnologia al proprio interno insistendo sulla necessità di ulteriori test quando dopo due anni di prove Armstrong divenne impaziente la RCA iniziò a usare la propria influenza presso il governo per bloccare l'implementazione della radio FM in generale nel 1936 la RCA assunse l'ex responsabile del FCC con l'incarico di assicurarsi che la stessa FCC assegnasse le frequenze in modo da castrare la radio FM principalmente spostandola su una diversa banda di frequenze all'inizio questi tentativi fallirono ma quando Armstrong e la nazione furono distratti dalla seconda guerra mondiale l'opera della RCA iniziò ad ottenere successo poco dopo la fine della guerra la FCC annunciò una serie di direttive che avrebbero avuto un effetto preciso la radio FM sarebbe stata zoppata come scrive Lawrence Lessing la serie di colpi che la radio FM subì subito dopo la guerra in una serie di disposizioni manipolate attraverso la FCC dai grandi interessi dell'industria radiofonica fu quasi incredibile quanto a potenza e scorrettezza per far posto nello spettro di trasmissione all'ultima scommessa della RCA la televisione gli utenti della radio FM dovettero essere spostati su un'altra banda di frequenze totalmente nuova ma anche la potenza delle emittenti FM venne ridotta nel senso che non si potevano più usare per trasmettere programmi da una parte all'altra del paese questa modifica ottenne il forte appoggio della ATT perché la perdita delle stazioni ponte in FM avrebbe imposto alle emittenti l'acquisto dei cavi di collegamento dalla ATT stessa la diffusione della radio FM venne così soffocata almeno temporalmente Armstrong resistette agli attacchi della RCA per tutta risposta la RCA si oppose ai brevetti di Armstrong dopo aver incorporato la tecnologia FM nello standard emergente per la televisione la RCA dichiarò i brevetti non validi senza alcun fondamento e 15 anni dopo la loro assegnazione con ciò rifiutò di pagare ad Armstrong le royalty per 6 anni egli combatte una dispendiosa battaglia legale per difendere i suoi brevetti alla fine, proprio mentre questi stavano per scadere la RCA propose un accordo economico talmente misero e non avrebbe coperto neppure i compensi degli avvocati di Armstrong sconfitto, affranto e ora ridotto sull'astrico nel 1954 dopo aver scritto una breve missiva alla moglie si suicidò saltando da una finestra del tredicesimo piano è così che talvolta funziona la legge spesso non con esiti così tragici raramente con il dramma di un eroe ma qualche volta funziona così da sempre il governo e le agenzie governative sono soggette a una sorta di ricatto è più probabile che siano ricattate quando grossi interessi vengono minacciati da un cambiamento legislativo o tecnico troppo spesso questi potenti interessi esercitano la propria influenza all'interno del governo per indurlo a tutelarli ovviamente la retorica di questa tutela appare sempre a favore del pubblico la realtà è ben diversa idee che un tempo erano solide come rocce ma che lasciate a se stesse in un altro periodo si sarebbero sgretolate vengono sostenute tramite questa sottile corruzione del nostro processo politico la RCA possedeva quel che mancava ai coniugi Cosby il potere di soffocare l'effetto del cambiamento tecnologico non esiste un unico inventore di internet come non esiste una data precisa in cui collocarne la nascita tuttavia in un lasso di tempo assai breve internet è divenuta parte della vita quotidiana in America secondo il più internet and american life project del 2002 il 58% degli statunitensi aveva accesso a internet in crescita rispetto al 49% di due anni prima si può stimare che quella percentuale abbia ormai superato i due terzi della nazione alla fine del 2004 man mano che internet si è integrata nella vita quotidiana ha prodotto alcuni cambiamenti alcuni tecnici internet ha reso più veloce la comunicazione ha ridotto i costi della raccolta dei dati e così via tali cambiamenti tecnici restano al di fuori dello scopo di quest'opera sono importanti non vengono compresi a pieno ma appartengono a quel tipo di cose che finiscono semplicemente con lo scomparire non appena ci scolleghiamo da internet non hanno effetto su coloro che non usano internet o almeno non in maniera diretta andrebbero affrontati in un apposito volume dedicato a questo argomento ma questo libro non lo è e si affronta invece un effetto provocato da internet al di là della stessa internet l'effetto sul modo in cui si costruisce la cultura secondo le mie tesi nel corso di questo processo internet ha introdotto un cambiamento importante e poco riconosciuto che trasformerà in maniera radicale una tradizione che risale agli albori stessi della repubblica se fosse in grado di riconoscere questo mutamento la maggior parte delle persone finirebbe per rifiutarlo tuttavia in genere non riesce neppure a notare il cambiamento che la rete ha innescato possiamo intuire il senso del cambiamento distinguendo tra cultura commerciale e non commerciale e seguendo la mappa delle regolamentazioni legislative di entrambe per cultura commerciale intendo quella parte della nostra cultura che viene prodotta e posta in vendita oppure prodotta con l'intento di essere venduta per cultura non commerciale intendo tutto il resto quando gli uomini anziani si sedevano sulle panchine nei parchi oppure negli angoli delle strade e raccontavano delle storie per i ragazzi ed altri ascoltatori quella era cultura non commerciale quando Noah Webster pubblicò il prototipo dell'omonimo dizionario o Joel Barlow alle sue poesie quella era cultura commerciale all'inizio della nostra epoca storica e per l'intero corso della nostra tradizione sostanzialmente la cultura non commerciale non era soggetta a regole ovviamente nel caso di storie lascive o di canzoni che disturbassero la quiete interveniva la legge ma essa non riguardava mai direttamente la creazione o la diffusione di questa forma di cultura che veniva lasciata libera le normali modalità con cui la gente comune condivideva e trasformava la propria cultura raccontando storie riproponendo scene di lavori teatrali o televisivi partecipando a club di appassionati condividendo musica registrando nastri erano ignorate dalla legge la legislazione si concentrava sulla creatività commerciale all'inizio in modo blando poi sempre più esteso la legge tutelava gli incentivi dei creatori riconoscendo loro i diritti esclusivi sulle proprie opere così che potessero vendere tali diritti nel mercato naturalmente ciò rappresentava una parte importante della creatività e della cultura ed è divenuto un elemento sempre più importante in America ma in nessun senso era qualcosa di dominante nella nostra tradizione ne costituiva piuttosto soltanto una parte una parte sotto controllo equilibrata da quella libera oggi questa grossolana divisione tra cultura libera e cultura controllata è stata cancellata internet ha impostato lo scenario per questa cancellazione e sotto la spinta dei grandi media ora rientra sotto la tutela della legge per la prima volta nel corso della nostra tradizione le modalità correnti con cui gli individui creano e condividono cultura ricadono all'interno della regolamentazione giuridica che è stata estesa fino a portare sotto il proprio controllo una quantità di cultura e creatività mai raggiunta prima la tecnologia che aveva mantenuto l'equilibrio della nostra storia tra gli usi della cultura ritenuti liberi e quelli possibili soltanto dietro permesso è stata eliminata la conseguenza è che siamo sempre meno una cultura libera e sempre più una cultura del permesso questo cambiamento viene giustificato come elemento necessario a tutela della creatività commerciale e infatti il protezionismo ne rappresenta la motivazione precisa ma quel protezionismo a giustificazione dei cambiamenti che descriverò più avanti non è del tipo limitato ed equilibrato che ha definito la legge in passato non è un protezionismo che tutela gli artisti è invece un protezionismo che tutela certe forme di attività commerciali le grandi aziende minacciate dalla potenzialità di internet e di cambiare il modo in cui vengono realizzate e condivise sia la cultura commerciale sia quella non commerciale si sono alleate nell'indurre i legislatori a usare la legge per proteggerle è la storia della rca e di armstrong è il sogno dei cosby il punto è che internet ha offerto a molta gente l'eccezionale possibilità di partecipare al processo di costruzione e coltivazione di una cultura che va ben oltre gli ambiti locali questa forza ha modificato il mercato dove si produce e si coltiva la cultura in senso generale e a sua volta il cambiamento minaccia le industrie attualmente dedicate alla produzione di contenuti per le industrie che realizzavano e distribuivano contenuti nel ventesimo secolo internet è simile a quel che la radio FM fu per la radio AM o a quel che l'industria del traffico pesante fu per la ferrovia del diciannovesimo secolo l'inizio della fine o quantomeno una trasformazione sostanziale le tecnologie digitali legate a internet potrebbero dar vita a un mercato molto più vivo e competitivo per la costruzione e lo sviluppo della cultura tale mercato potrebbe contenere una gamma di creatori assai più ampia e diversificata questi creatori potrebbero produrre e distribuire creatività a un livello molto più esuberante e sulla base di alcuni importanti fattori tali creatori potrebbero guadagnare mediamente più da questo sistema che dall'attuale tutto ciò purché le RCA dei nostri giorni non decidano di ricorrere alla legge per proteggersi contro questa concorrenza tuttavia, come sostengo nelle pagine successive ciò è esattamente quanto accade oggi alla cultura questi equivalenti moderni delle radio dell'inizio del ventesimo secolo o delle ferrovie del diciannovesimo secolo stanno usando il loro potere per fare in modo che la legge li protegga contro tecnologie nuove più efficaci, più vitali nel costruire cultura stanno portando al successo il piano di rifare internet prima che internet rifaccia loro per molti le cose non stanno così alla maggior parte della gente le battaglie relative al diritto d'autore a internet appaiono lontane ai pochi che le seguono tali battaglie sembrano riguardare per lo più un'area ristretta di problemi se la pirateria verrà consentita e se la proprietà sarà tutelata la guerra che è stata dichiarata alle tecnologie di internet quella che Jack Valenti presidente della Motion Picture Association of America definisce la sua guerra personale contro il terrorismo è stata presentata come una battaglia sulle norme giuridica e sul rispetto della proprietà per sapere da che parte stare in questa guerra la maggioranza crede che si debba decidere soltanto se si è a favore o contro la proprietà se fossero veramente queste le alternative allora mi schiererei con Jack Valenti e con l'industria che produce contenuti anch'io credo nella proprietà e soprattutto nell'importanza di quel che il signor Valenti definisce elegantemente proprietà creativa credo che la pirateria sia sbagliata e che la legge adeguatamente affinata dovrebbe punirla fuori o dentro internet ma queste semplici opinioni mascherano una questione molto più essenziale è un cambiamento assai più radicale il mio timore è che se non riusciamo a vedere questo mutamento la guerra per liberare il mondo di internet dai pirati porterà altresì la cultura a disfarsi di quei valori che fin dalle origini hanno fatto parte integrante della tradizione questi valori hanno dato vita a una tradizione che almeno per i primi 180 anni della Repubblica Statunitense garantiva ai creatori il diritto a costruire liberamente sul passato e tutelava i creatori e gli innovatori dal controllo a livello sia statale che privato il primo emendamento proteggeva i creatori dal controllo statale e come sostiene efficacemente il professor Nile Nithanel le leggi sul diritto d'autore appropriatamente calibrate tutelavano i creatori nei confronti del controllo privato la nostra tradizione non era quindi né quella sovietica né quella dei mecenati si era invece ritagliata un'ampia area protetta all'interno della quale i creatori potevano coltivare ed estendere la cultura eppure la risposta della legge a internet quando associata ai cambiamenti nella tecnologia della rete stessa ha enormemente aumentato l'effettiva regolamentazione della creatività in America per costruire sopra la cultura che ci circonda o per giudicarla si deve prima chiedere il permesso alla maniera di Oliver Twist ovviamente spesso tale permesso viene accordato ma non così di frequente ai critici o agli indipendenti abbiamo costruito una sorta di nobiltà culturale quelli che appartengono alla classe nobile vivono una bella vita chi ne resta fuori no la storia che segue riguarda questa guerra non la centralità della tecnologia nella vita ordinaria non credo in un dio digitale o di altro tipo ne intendo demonizzare quel gruppo o individuo perché non credo neppure nel demonio di una corporation o altro questo libro non è un'allegoria morale non è neanche un incitamento al jihad contro un'industria si sforza invece di capire una guerra distruttiva e senza speranza ispirata dalle tecnologie di internet ma con una portata che va ben oltre il suo codice e tramite la comprensione di questa battaglia è il tentativo di tracciare una mappa per la pace non esiste alcun valido motivo per continuare l'attuale conflitto sulle tecnologie che circondano internet la nostra tradizione e la nostra cultura subiranno danni ingenti se tale conflitto dovesse proseguire indisturbato dobbiamo arrivare a comprendere l'origine di questa guerra dobbiamo risolverla presto al pari della battaglia dei conigi Cosby questa è in parte una guerra per la proprietà la proprietà in questa guerra non è tangibile come nel caso dei Cosby e finora nessun pollo innocente ha perso la vita tuttavia le idee che circondano questa proprietà appaiono ovvie tanto quanto le rivendicazioni dei Cosby sulla sacralità della loro fattoria siamo noi i Cosby la maggior parte di noi dà per scontate le ragioni straordinariamente forti che oggi sostengono i detentori della proprietà intellettuale la maggior parte di noi come ai Cosby considera ovvie tali ragioni e su queste basi al pari dei Cosby sollevano obiezioni quando una nuova tecnologia interferisce con questa proprietà per noi è evidente come lo era per loro che le nuove tecnologie di internet stanno violando le legittime rivendicazioni della proprietà per noi è evidente come lo era per loro che la legge dovrebbe intervenire per bloccare una simile violazione e così quando i fanatici o gli esperti di tecnologia difendono le proprie innovazioni simili a quelle di Armstrong o dei fratelli Wright la maggior parte di noi mostra semplicemente scarsa simpatia il senso comune non si ribella contrariamente al caso degli sfortunati Cosby in questa guerra il senso comune è dalla parte di chi detiene la proprietà contrariamente ai fortunati fratelli Wright internet non ha ispirato una rivoluzione che la sostenga la mia speranza è quella di fare progredire questo senso comune sono sempre più meravigliato dalla forza di questo concetto di proprietà intellettuale e ancora più importante dalla sua capacità di annullare il pensiero critico nei politici e nei cittadini non è mai esistito un periodo della storia in cui gran parte della cultura fosse di proprietà come oggi eppure non è mai esistita un'epoca in cui la concentrazione del potere nel controllare gli utilizzi della cultura venisse così supinamente accettata come ora la domanda è perché perché siamo arrivati a comprendere la verità del valore e dell'importanza della proprietà assoluta sulle idee e sulla cultura è stato forse perché abbiamo scoperto quanto fosse sbagliata la tradizione di rifiutare una simile motivazione assoluta oppure perché il concetto di proprietà assoluta sulle idee e sulla cultura porta benefici alle RCA della nostra epoca ed è conforme alle nostre intuizioni prive di riflessione l'abbandono radicale della tradizione di una cultura libera è un esempio dell'America che corregge un errore del passato come è accaduto dopo una sanguinosa guerra nei confronti della schiavitù e come sta lentamente accadendo nei confronti delle inuguaglianze oppure il radicale abbandono della tradizione di una cultura libera è l'ennesimo esempio di un sistema politico ricattato da un pugno di interessi particolari su questa faccenda il senso comune sembra portare a posizioni estreme perché ci crede davvero oppure tace di fronte ad esse perché come nel caso di Armstrong contro la RCA la fazione più potente sia assicurata di avere il punto di vista più influente non voglio fare il misterioso le mie opinioni sono chiare credo fosse giusto per il senso comune rivoltarsi contro l'estremismo dei casbi credo che sarebbe giusto per il senso comune ribellarsi contro le ragioni estreme sostenute oggi a favore della proprietà intellettuale quel che la legge chiede oggi è sempre più stupido tanto quanto uno sceriffo che arresti un aeroplano per violazione di proprietà ma le conseguenze di questa stupidità saranno molto più profonde il conflitto che sta emergendo ora è centrato su due concetti pirateria e proprietà il mio obiettivo nelle successive due parti del volume è quello di esplorare questi due concetti il mio metodo non è quello comunemente seguito da un accademico non voglio far naufragare il lettore con un'argomentazione complicata sostenuta da riferimenti a oscuri teorici francesi per quanto ciò possa apparire naturale a quella strana specie di accademici in cui ci siamo trasformati inizio invece ciascuna parte descrivendo una serie di eventi che disegnano il contesto all'interno del quale questi concetti apparentemente semplici possono essere compresi in modo migliore le due sezioni servono a impostare la tesi centrale del libro che mentre internet ha effettivamente prodotto qualcosa di fantastico e di nuovo le istituzioni governative sotto la spinta dei grandi media nel rispondere a questo qualcosa di nuovo stanno distruggendo qualcosa di molto antico anziché comprendere i cambiamenti che internet può consentire anziché guadagnare tempo in modo da lasciare decidere al senso comune la risposta migliore stiamo permettendo a coloro che si sentono più minacciati dai cambiamenti di usare la loro forza per modificare la legge e fatto più importante di usare la forza per cambiare qualcosa di fondamentale che riguarda ciò che siamo sempre stati lo permettiamo credo non perché sia giusto e non perché la maggior parte di noi creda veramente in questi cambiamenti lo permettiamo perché gli interessi maggiormente minacciati appartengono a chi gioca un ruolo estremamente potente nel processo di costruzione delle leggi un processo compromesso in maniera deprimente questo libro è la storia di un'ulteriore conseguenza di questa forma di corruzione una conseguenza che la maggior parte di noi ignora di un'ulteriore di un'ulteriore di un'ulteriore di un'ulteriore